Buonasera a tutti, salve, bentrovati. Bellissimo trovare una sala così piena per un appuntamento che pensavo fosse importante, prioritario e strategico, ma quando nei giorni scorsi ci hanno informato degli accreditati alla giornata abbiamo, io almeno ho veramente accolto con entusiasmo e sorpresa una partecipazione così numerosa. Quindi un saluto ovviamente a tutti i colleghi e colleghe imprenditori e imprenditrici, agli amici che vedo in sala, agli ospiti, un buon pomeriggio davvero a tutti. Il mio è un saluto quello che viene diciamo da Confindustria Centro Adriatico, per chi così non lo sapesse Centro Adriatico è la fusione della Confindustria di Ascoli Piceno con la Confindustria di Fermo, fusione avvenuta lo scorso anno e che poi ormai nel 2018 ha dispiegato tutte le sue energie e questo è uno degli appuntamenti tecnici ma per noi di grande importanza con cui cerchiamo di restituire ogni giorno al territorio, alle nostre imprese un servizio e la fiducia anche che diciamo che ci affidano anche nell'essere nostri associati. Il mio è un intervento principalmente di ringraziamenti perché le testimonianze molto più competenti sul tema saranno quelle che ovviamente seguono. Un ringraziamento ad SFC che per noi è una costola importante del sistema Confindustriale, SFC sta per sistemi formativi di Confindustria e questo seminario nasce proprio in sinergia tra la Centro Adriatico e i sistemi formativi nazionali. Parliamo oggi ovviamente di fatturazione elettronica, una scadenza importantissima quella del primo gennaio su cui ci confrontiamo con tanti dubbi che anche nei giorni scorsi abbiamo raccolto dalle nostre imprese associate ma anche da tante imprese non associate che ci hanno chiesto la possibilità di partecipare a questa importante giornata. Ovviamente i ringraziamenti vanno anche all'amministrazione comunale di Grotta Mare, al sindaco Pier Gallini ma anche ad Alessandro Rocchi che saluto e ringrazio per la disponibilità e la collaborazione all'organizzazione della giornata odierna. Ringrazio come sempre gli imprenditori che ogni giorno sono a servizio di questo Paese e contribuiscono in maniera determinante a creare valore, a creare ricchezza, a creare sviluppo e a offrire lavoro ogni giorno. Ecco mi auguro che proprio in questa direzione quindi quella della creazione di valore per il territorio e per l'economia vada questa riforma importante quella che dal di cui discuteremo oggi e che vi vede tutti così interessati e partecipi. Ringrazio ancora l'ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili sia di Ascoli Piceno che di Fermo nelle persone dei rispettivi presidenti Carlo Cantalamessa e la dottoressa da un lato per Ascoli Piceno e la dottoressa Eliana Quintili per Fermo. Da sempre come approccio culturale abbiamo ritenuto che la collaborazione portasse risultati estremamente importanti, lo abbiamo sperimentato con le istituzioni, con la regione per ad esempio l'ottenimento dell'area di crisi complessa per la provincia di Ascoli Piceno, lo stiamo sperimentando in questo momento purtroppo per lo stesso riconoscimento di area di crisi complessa per il distretto calzaturiero Fermano su questo tema siamo come dire reduci da un incontro anche con il Ministero dello Sviluppo Economico e con lo stesso Ministro Di Maio per ottenere purtroppo questo che certo non è un premio, un'onorificenza ma un riconoscimento di fatto di una condizione estremamente grave dell'economia di questo distretto. Consentitemi ancora un vivissimo ringraziamento all'Agenzia delle Entrate, da un lato al dottor Mario Piancaldini che credo si collegherà successivamente via Skype in collegamento direttamente da Roma, alla dottoressa Ferracani dell'area politiche fiscali di Confindustria, ecco che torno a dire il rapporto diretto, trasparente e costruttivo tra enti diversi non può che essere positivo e portatore di vantaggi per tutto il sistema. Il ringraziamento va anche ovviamente al direttore provinciale dell'Agenzia delle Entrate di Ascoli e Fermo, il dottor Marco Di Pasquale che oggi ci onora della sua presenza e che credo sarà anche oggetto di confronto e che riceverà domande da tutti i presenti. Io non voglio entrare nei vantaggi o meglio avevo preparato qualche appunto rispetto a quelli che sono i veri punti di forza dal nostro punto di vista, dal punto di vista delle imprese rispetto a questa grande novità, quella della fatturazione elettronica tra privati che appunto prenderà il via il primo gennaio. Di sicuro auspichiamo che possa essere portatrice di maggiore efficienza, di snellezza, di recupero di competitività per le imprese di questo Paese, imprese che da anni hanno una produttività comparata rispetto agli altri Paesi europei, drammatica, in calo, il gap tra la produttività delle imprese italiane e quelle tedesche o francesi si è ampliato in maniera davvero preoccupante, ma non negli ultimi 5 anni o 10 anni che sono quelli dalla cosiddetta crisi in avanti, ma è almeno un ventennio che la produttività italiana è ferma contro quella di altri Paesi che invece è in costante crescita. Un dato positivo, sono abituato a guardare il bicchiere mezzo pieno, credo che sia un dovere di chi anche riveste qualche incarico di responsabilità in primis da imprenditore, guardare sempre con ottimismo al futuro anche nei momenti più difficili e allora in un contesto provinciale non certo roseo c'è però da dire che l'Italia è il primo Paese europeo in assoluto a prevedere l'obbligo di fatturazione elettronica per tutte le operazioni fra privati. Ecco è raro che l'Italia abbia un primato da questo punto di vista, noi ci auguriamo che questo tipo di primato possa essere davvero utilizzato per contrastare una delle piaghe italiane, quella dell'evasione fiscale che evidentemente sottrae risorse importanti allo sviluppo del nostro Paese e questo tipo di digitalizzazione è evidente che consentirà una quadratura, un confronto, un'ammacciatura tra dati e informazioni che fino ad oggi con gli strumenti cartacei evidentemente non era possibile. Ecco ci auguriamo che le risorse che dovessero emergere da questo tipo di recuperi possano essere ulteriormente però investite per continuare questo processo di digitalizzazione. Le nostre imprese scontano anche da questo punto di vista un gap importante con le imprese del resto d'Europa per non dire del mondo, se parliamo di digitalizzazione da un lato e di fatturazione elettronica abbiamo bisogno di infrastrutture digitali adeguate perché rischiamo altrimenti di avere strumenti molto performanti ma infrastrutture e mi riferisco ad esempio una su tutte evidentemente alla fibra ottica che in moltissimi comuni delle nostre province perché tolte i comuni più importanti tutti voi sapete che magari aziende medio grandi studi professionali si trovano ancora ad avere delle ADSL o DSL in ogni caso con delle connettività davvero ridicole. Oggi parliamo di industria 4.0 e di tutto quello che va dietro, anche i vantaggi fiscali di industria 4.0, iperammortamenti e superammortamenti ma poi questi macchinari dovrebbero essere connessi in rete e dialogare con il mondo ma se poi mancano questo tipo di infrastrutture questo rimane un'utopia e questo ovviamente non possiamo permettercelo. Con l'auspicio quindi che questo primato dell'Italia quale primo paese per la fatturazione elettronica tra tutte le operazioni fra privati possa essere portatore anche di altri primati del nostro paese cosa che ovviamente ci riempirebbe d'orgoglio e penso che l'Italia abbia tutti gli elementi e i motivi per essere orgogliosa del proprio paese e quindi con questo auspicio vi auguro davvero un buon pomeriggio e un buon lavoro. Grazie.